Ciao a tutti amici e fan del canale, scusate se questa sera ho caricato un video un po' casalingo ma è successa una cosa strepitosa e quindi ve lo dovevo dire anche perché potete centrare anche voi Vi ricordate Ricky Sappa, il ragazzo con il quale abbiamo fatto il video della Clio N3 insieme a Gian Antonio Bianco? Bene, lui è da anni che fa assistenza, ovvero fa da meccanico durante i rally e i ronde alle macchine dei suoi amici o di chi gli lo chiede in pratica li fa da meccanico nel caso ci sia un guasto, nel caso ci sia da sostituire qualcosa, si chiama proprio fare assistenza a un'auto e quest'anno era da solo, e allora essendo che anch'io ci so fare, mi ha chiesto se vado in assistenza con lui e io ovviamente ho accettato, quindi quest'anno io e Ricky Sappa saremo insieme in assistenza al Ronde del Val Menula e non faremo assistenza a due macchine qualsiasi, bensì avremo ovviamente la Clio N3 di Gian Antonio Bianco e l'Opel Corsa Gruppo A di Thomas e Laura, che sono due ragazzi ovviamente sposati che anche loro correranno nel Ronde del Val Menula Il Ronde del Val Menula non è un rally come dice la parola stessa, bensì è un ronde cosa vuol dire? Che anziché avere diverse prove speciali ci sono 4 prove ed è la stessa che si ripete per 4 volte se andate su Google scrivendo Ronde Val Menula 2020 vi troverete tutti i dati e tutto quello che c'è da sapere per venirlo a seguire sull'EPS Si svolgerà l'8 e il 9 febbraio, quindi questo prossimo weekend che sta per arrivare e noi per tutto il weekend saremo nel paddock con il nostro gazebo e ovviamente non potevamo semplicemente fare assistenza ma abbiamo architettato un modo per riuscire anche a fare un hospitality potrete venire, potremo incontrarci, potremo conoscerci nei momenti diciamo più tranquilli anche se comunque saremo presenti tutto il giorno dalle sette e mezza di sabato fino a circa le otto e poi il giorno dopo che la gara si svolge la domenica mentre di sabato c'è lo check down saremo nuovamente presenti fino alla premiazione perché poi dovremo levare tutto e ovviamente durante la giornata vloggerò quello che si farà per poi postare i video spero già la settimana dopo e così potrete vedere come funziona l'assistenza di auto da corsa e come funziona il retroscena che c'è dietro tutta una gara dalle verifiche tutto quello che capiterà sotto i miei occhi ci sarà e molto importante ci saranno le fidanzate mie quindi Chiara e la fidanzata di Ricky la moglie di Gianni tutta la gente intorno ci aiuteranno anche per gestire l'hospitality non soltanto per ospitarvi ma anche perché c'è una grande novità finalmente sono arrivati gli adesivi e sono finalmente disponibili e acquistabili purtroppo poste italiane non ha delle tariffe molto agevolose quindi tipo la spedizione non tracciabile costa 1 euro e 10 mentre la spedizione è rintracciabile costa 2,80 euro quindi devo ancora capire come spedirveli se li volete comprare da lontano per il momento essendo che ci sto ancora ragionando e non vorrei chiedere 10 euro per un adesivo pensavo di farlo offerta quindi partendo dal minimo per coprire le spese fino a poi qualcuno quanto vuole offrire e per il momento però li potrete venire ad acquistare direttamente al palco assistenza del Ronde del Val Merula nel nostro tendone hospitality e li venderò a 3 euro l'uno quindi vi aspetto numerosi venite a trovarci mi farà molto piacere troverete me a incasinarmi insieme a Ricky troverete Chiara che ovviamente mi aiuterà con le riprese e venite numerosi anche sull'APS per sostenere AsinoCorse vedrete tutte le macchine che hanno aderito al progetto avranno l'adesivo sull'unotto posteriore e vedrete che sarà molto bello siamo riusciti a creare una cosa molto molto bella e qualche istruzione per l'adesivo per le macchine va attaccato in alto a sinistra nel vetro diciamo posteriore mentre sulle moto se riuscite che avete un codino potete attaccarlo sul codino queste sono diciamo le indicazioni poi potete attaccarlo un po' dove mica volete mettiamola in questi termini e in ultimo vi lascio due istruzioni su come attaccarlo al meglio e mi raccomando ragazzi tanto tifo perché questo ronde del Val Merula sarà spettacolare e non vedo l'ora poi di farvi vedere tutto il vlog di quello che c'è dietro a un'assistenza scusate ancora per il video un po' raffazzonato beccatevi le istruzioni per montare l'adesivo e noi ci vediamo il weekend dell'8-9 febbraio a Ronde del Val Merula grazie ragazzi innanzitutto dovete pulire bene la parte dove volete applicarlo poi rimuovete la parte posteriore dell'adesivo tenendo la pellicola inclinata in modo tale da fare una curva spessa e così le lettere si possono trasferire dalla parte posteriore alla parte anteriore cercando di non toccare mai l'asinello perché sarà quello che poi si dovrà incollare sopra la parte dove lo andate ad attaccare una volta fatto avete l'asinello in mano e cominciate col dito a schiacciare bene ogni parte bianca da doverlo attaccare in modo tale che ogni grinza che si formerà la leverete col dito anche se lo state attaccando su una superficie non piana come questo l'importante è che schiacciate bene la parte bianca seguitela in modo tale che si stacca bene e copia perfettamente la superficie se la parte è trasparente sopra fa delle grinze non vi preoccupate tanto alla fine bisogna rimuoverla una volta che tutto attaccato rimuovete la copertura in plastica e voilà avete fatto a presto Grazie per la visione!